Che sport posso praticare nella mia città? Quali sono le strutture e le società sportive e dove sono ubicate? Dove posso portare i miei figli a fare sport? Domande semplici alle quali non sempre era facile trovare risposte o perlomeno era un po' complesso. Ora grazie a un sito internet appositamente dedicato, ideato dalla consulta dello sport di Senigallia, conoscere e contattare le società sportive a Fano sarà a portata di clic. Basta digitare consulta dello sport e 198 società e gli 81 impianti sportivi sono sotto i nostri occhi e a portata di mano. Basta decidere solo a che sport vogliamo dedicarci. Questo è un nuovo sito dedicato allo sport cittadino che è pensato per le famiglie che a settembre vogliono scegliere uno sport. Gli sport a Fano sono tantissimi, tantissime società si sono già accreditate. L'invito che faccio a tutte quelle società che ancora non l'hanno fatto di continuare a aumentare gli sport perché questo portale veramente sarà importante esserci. Fano e Senigallia sempre più vicine quindi e non sarà solo la futura ciclabile ad unirle ma anche la promozione dei due eventi più rappresentativi delle due città il Carnevale ed il Summer Jamboree. Ed è anche al turista che questo portale strizza l'occhio anzi tutti e due possiamo dire, visto che il turismo sportivo muove masse importanti soprattutto in momenti di bassa affluenza e conoscere ciò che le società sportive organizzano in loco anche sul nostro smartphone diventa un'occasione di promozione turistica. Una risposta importante, agile, di facile consultazione, snella che sicuramente darà la possibilità anche di scoprire i tanti eventi che le nostre associazioni sportive organizzano nei weekend ma soprattutto così offriranno la possibilità di essere seguiti e magari di essere stimolati a seguire nuove discipline sportive. Sono molto contento che l'assessore allo sport Caterina Delbianco abbia deciso di utilizzare questo portale, di aderire e accreditarsi anche come comune. Tantissimi sono i comuni d'Italia che stanno accreditandosi a questo format. perché io credo delle buone pratiche e soprattutto sulla digitalizzazione... Grazie a tutti! Grazie a tutti!